Per quanto riguarda i dibattiti sul passato storico, non mi appassionavano quando li faceva Renzi, non mi appassionano se li fa di Maio. Non torneranno più né fascismo, né comunismo, né nazismo, fortunatamente. Siamo nel 2019, parliamo di lavoro, parliamo di migrazione, parliamo di ponti da ricostruire, di ferrovie, di tunnel, di strade, di autostrade, di porti, di aeroporti. Quindi, chi dibatte su orrori storici di 70 anni fa, secondo me, non è al passo quei tempi, nessuno nega niente. Non faremo alleanze con coloro che vogliono cambiare l'Europa. Non l'ho e non ipoteserò mai di provare a fare alleanze come hanno provato a fare gli amici dei Cinque Stelle con chi hanno governato l'Europa in questo periodo. Però, ripeto, con l'amico Luigi Di Maio stiamo lavorando per risolvere tante crisi aziendali, anzi...